Com'è il peggiorno? Tutto a posto? Il sabato ci sono i campi di Senea e ora con l'idrattoria di Zafferano e Tneo che ci sono i bambini e i boomerangs e sperimenti nei comici Tutto a posto! Sono Francesco Mazzullo! Scusate, senta sempre di pregarmi il ruolo! Sabato, 8 dicembre, ore 21 alla Trattoria Ardichetto di Zafferano e Tnea i comici di tutta posto show di Francesco Mazzullo Se volete trascorrere una serata divertente ed essere travolti dagli irresistibili sapori di Sicilia della Trattoria Ardichetto i comici di tutta posto show vi aspettano al Gran Cabaret! Ehi tu, signorina terra sponda tutte cose fatene a casa con questi pallettini Ehi tu, amico bello, stacca quei fili quel carellonno là e vai a casa gentilissimo pubblico questa sera questa c'è uno spettacolo non si può fare oh! ma come che non si può fare questo spettacolo? ma io ho fame e mi lo pure imbato la patta a memoria perchè? questa sera non si può fare perchè? la Trattoria Ardichetto si mangia bene e ci sono tante rosate no? non si può fare non ci sono tante non ci sono tante questa bambolina ci pensiamo noi questa bambolina ci penso io i comici di tutta posto show vi aspettano al Gran Cabaret! cena spettacolo sabato 8 dicembre alla Trattoria Ardichetto di Zafferano e Tnea sperimenti questo megalo di ploteama ma che dici? non si capisce niente sperimenti questo megalo di ploteama tranquilli ci sarò pure io alla cena risate assicurate e pure io non mancate a presto